Sono Matteo e ho partecipato alla settima edizione, quella di Milano. Hai già fatto operazione e avuto risultati? Chiusa un'operazione, quindi da AVI, con un guadagno di 30.000 euro, che era il 30% sull'operazione e ne ho aperta una che sto aspettando che mi danno il decreto di trasferimento per iniziare i lavori. Sto valutando anche il mercato libero perché ci sono tempi un po' più, diciamo, veloci. La forza del gruppo che tutti possono fare, anche una piccola, diciamo, contribuzione alla volta, è la forza proprio di rendimento etico. Abbiamo visto le ultime operazioni sono state chiuse in un tempo, cioè, impressionante, quindi bisogna promuovere altre operazioni, ma la forza c'è. Quando unisci tante piccole forze, crei una forza enorme. Ti partecipi all'Accademia da qualche mese? La consiglio perché hai un coach, o comunque tanti coach, chi è più esperto nel marketing, chi proprio nelle tecniche delle negoziazioni, anche sul proprio mercato immobiliare, sempre a portata di telefonino o di computer. Quindi in qualsiasi momento ti viene un dubbio sull'operatività, puoi aprire il computer, andare in una sezione specifica del tuo dubbio e chiarirti il dubbio. E in più, i corsi dal vivo ti aiutano a fare networking, quindi conoscere persone, instaurare rapporti e anche tenerti sul pezzo.